La figura del fantomatico zio Francesco manca gli sms inviati dopo la scomparsa uno in particolare ad un prete che solamente lui conosceva manca il depistaggio messo in atto che ha ritardato le indagini ad incastrare padre Graziano condannato in via definitiva a 25 anni di reclusione per l'omicidio e la distruzione del cadavere di Guerrina Piscaia una serie di indizi convergenti che non lascerebbero margini di dubbi seppur in un processo indiziario in mancanza di un cadavere Sono state infatti depositate le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione Nelle 57 pagine la Suprema Corte ha ricostruito ed accertato il grande mosaico accusatorio messo in piedi dalla Procura di Arezzo Nonostante la difesa sempre sostenuto e anche altri che il quadro indiziario fosse un quadro indiziario limitato invece è un quadro indiziario importante e quindi come abbiamo sempre sostenuto al primo grado lui è colpevole e deve essere condannato Confermato anche il movente del delitto Guerrina era innamorata di padre Graziano, lui invece temeva uno scandalo Cioè il primo maggio si sono incontrati e lui l'ha uccisa proprio il primo maggio e poi in un secondo momento ha avuto tutto il tempo di occultare il cadavere Tant'è che è condannato anche per occultamento di cadaveri Sono state inoltre smontate tutte le obiezioni sollevate dalla difesa La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso da loro presentato per annullare il verdetto di condanna L'ordine dei premostratensi infine avrebbe avviato la procedura per la riduzione di padre Graziano allo stato lecale Meglio tardi che mai, questo è sostanzialmente il mio commento Il religioso dal carcere di Re Bibbia dove sta scontando la pena continua a dichiararsi innocente I suoi legali stanno preparando il ricorso alla Corte di Giustizia europea